Naturalmente la faccio rispondere a questo, ma c'è anche il punto politico che diceva prima specchia sul MES. Avete un problema all'interno della maggioranza perché il PD la pensa in un modo e 5 Stelle in un altro. Lei sa che io ieri, l'altro ieri, anzi veramente dalla prima sera, ho detto che i soldi del MES nella parte senza condizionalità vanno usati. Questo Paese ne ha un bisogno enorme. Ieri ascoltavo i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, la previsione di quanto costerà un semplicissimo minuscolo segmento di ciò che andiamo facendo. E quello che ascoltavo mi confermava che quelle risorse per noi sono importantissime. Lo sono sia nelle spese sanitarie che nell'altra parte senza condizionalità, che è la ricerca, tutto ciò che attiene alla ricerca legata ovviamente al Covid. E anche qui torno a quello che ho detto prima. Ci sono importanti intelligenze, vanno sostenute. Torneremo magari a parlarne, ma quante volte abbiamo sentito parlare dei nostri giovani che se ne vanno all'estero? Ecco, una buona occasione per cominciare a costruire. Io penso che il Movimento 5 Stelle potrebbe consultare la propria base. È una cosa che loro diciamo... Sulla piattaforma, quindi. ...fanno, hanno già fatto. Esattamente. Dando però le informazioni corrette. Guardi, questa è stata una grande responsabilità di Meloni e Salvini. Perché hanno immediatamente, prima ancora che i lavori a Bruxelles finissero, si concludessero, i social erano invasi, invasi di una cattiva informazione, falsa informazione sul MES. Perché bisognava invece, bisogna che le persone sappiano quali sono le condizioni. Fate così, magari potete fare così, il quesito glielo scrivete voi ai 5 Stelle e così lo mettono poi sulla piattaforma in modo... Ma sono capaci di scriverlo anche loro. Guardi, qui al Ministero il Vice Ministro è tra l'altro un medico. Va bene. Sono certa che, per esempio, potrebbe spiegare bene cosa sta costando in questo momento il Covid. Quindi questo è il suggerimento. Provare a consultare, diciamo così, i militanti, gli esponenti sulla piattaforma russo per vedere insomma qual è. È una cosa troppo importante, guardi.